Un buon martedì ai nostri cari telespettatori in apertura di giornale una notizia che lega la città del Vaticano alla comunità alessandrina. Papa Benedetto XVI ha infatti nominato il cardinale Giuseppe Versaldi, delegato pontificio, con il compito di guidare l'ID, l'Istituto Demopatico dell'Immacolata. Il prelato, ex vescovo della città di Alessandria, dovrà indirizzare le strutture sanitarie da esso gestito verso un possibile risannamento economico, escludendo tuttavia la partecipazione della Santa Sede in queste opere. La congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione, cui fa capo l'ID, si era rivolta al Vaticano per salvare l'ospedale, che rappresenta un'eccellenza nel campo dermatologico e oncologico, con l'obiettivo di salvaguardare le 1500 famiglie degli operatori dell'ospedale e il patrimonio scientifico. Ora la gestione viene affidata al cardinale Versaldi, presidente della Prefettura per gli affari economici della Santa Sede. In questa veste, spiega il Vaticano, il cardinale Versaldi avrà il compito di guidare l'istituto religioso e di indirizzare le strutture sanitarie da esso gestite verso un possibile risannamento economico, escludendo tuttavia una partecipazione della Santa Sede in tali opere. Nuova udienza venerdì in Tribunale a Torino per il processo d'appello nei confronti di Louis Descartes e Stefan Schmidaini, dopo la sentenza di primo grado che li ha condannati a 16 anni per disastro ambientale doloso per le morti causate dalla lavorazione dell'amianto all'Eternit. Un processo ancora una volta mastodontico con migliaia di parti civili e una storia drammatica ancora nuovamente tutta da raccontare. Alberto Ogge, presidente della Corte d'Appello nel ricostruire i passaggi salienti dalla sentenza di primo grado ha addirittura paragonato una riunione di Schmidaini che fece con i suoi collaboratori per parlare dei rischi sul lamianto a una conferenza che si era tenuta a Wannisi che su incarico di Hitler vide come relatore Hermann Göring. Allora si parlò della soluzione finale e anche in quella stanza si glissò dal dire che la soluzione finale consisteva nell'eccidio degli ebrei. Un parallelo sconcertante che rende bene l'idea di quale reato si siano macchiati i due ex magnati dell'Eternit che mai si sono presentati in aula e che mai hanno parlato di voler destinare fondi per la ricerca contro il mesotelioma. Ma intanto a Torino il neo direttore dell'ARPA Angelo Robotto ha lanciato la priorità degli interventi tra le quali spicca la sicurezza nelle scuole con il nuovo allarme sulla lana di vetro. Roberto Monteriso. Appena insediato lancia subito il nuovo allarme. Angelo Robotto, 47 anni, è una laurea al Politecnico di Torino in Ingegneria Chimica e nuovo direttore dell'ARPA Piemonte. Casalese di origine ha da sempre a cuore il problema dell'amianto che continuerà ad essere tra le priorità di intervento anche sotto la sua gestione. A Casale Monferrato non c'è una famiglia che non abbia sofferto, non sia stata colpita, dice. Per me l'amianto è un tema ancora toccante. Ma oltre a questo le criticità su cui il nuovo direttore generale non intende far calare l'attenzione sono la qualità dell'aria, le bonifiche e più in generale la prevenzione. Per quanto riguarda l'inquinamento monitoriamo la qualità dell'aria, dice, con le nostre centraline mettendo subito i dati online che sono dunque consultabili per tutti i cittadini. Questi dati devono fare anche i conti con il meteo che è un'altra nostra peculiarità perché siamo l'ente di riferimento per la protezione civile. Ma un altro aspetto rilevante sul territorio, aggiunto e rappresentato dalle bonifiche ambientali non solo da amianto, dei suoli e delle acque sotterranee. E in questo momento, conclude, siamo impegnati sul tema caldo della sicurezza nelle scuole per il problema della lana di vetro, pericolosa perché può essere cancerogena. Arriva dall'incontro che si è svolto ieri ad Alessandria, tra la direzione e i primari e la caposala degli ospedali di Tortona e Novi, la notizia della smentita sulle voci circolate nel centrozona tortonese in merito allo spostamento del reparto di pediatria nel nosocomio di Novi. Stesso discorso per il punto nascite, entrambi restano a Tortona. In sintesi, alla pediatria di Tortona e Novi è stata assegnata la neonatologia e agli ospedali di Casale e Acquiterne va il servizio di pediatria ambulatoriale. La pubblica accusa nel processo per l'omicidio del tunisino, ucciso a coltellate davanti alla stazione di Novi Ligure, ha chiesto per l'autore materiale del delitto la condanna a 14 anni e 6 mesi di reclusione. Emma Camagni. Hassan Raoui Voghera deve essere condannato a 14 anni e 6 mesi quale autore materiale dell'uccisione del tunisino Moez Kaashu, 31 anni, ha coltellato a morte il 15 dicembre 2011 vicino alla stazione ferroviaria di Novi dopo una lite con il marocchino Mustafa Lakbib, monleale, che solo per Rissa va condannato a due anni e l'albanese Orges Lupo, 9. A quest'ultimo, imputato di Rissa e concorso anomalo in omicidio. Non voleva, cioè uccidere, ma solo dare una lezione alla vittima. Quindi, a concorso a un reatto più grave di quello voluto, vanno inflitti 9 anni. Queste le richieste del PM Giancarlo Bonna nel processo inabbreviato ai tre tuttora detenuti. Con il magistrato ha concordato Anna Maria Chiama, parte civile per la moglie della vittima. Mentre Claudio Simonelli, difensore del maggior imputato, ne ha chiesto la soluzione non essendoci la prova della sua colpa. E il subordine è l'attenuante della semi-infermità che esiste a dire del consulente di parte no per quello d'ufficio. Per la concessione delle attenuanti e l'assoluzione dal concorso anomalo in omicidio, si sono pronunciati gli altri difensori, Piero Monti, Guglielmina Mecucce e Francesca Cirio. Sentenza lunedì prossimo. L'omicidio, sostiene l'accusa, è stata la conseguenza di un'aggressione iniziata a pugni e calci e conclusa con una coltellata di Raoui che con la Kib continuò a infierire sulla vittima già riversa al suolo senza vita. Il delitto pari a fondere le ridici nel rifiuto posto da Raoui a Kaushu, definito violento oltre che spacciatore, ad essere coinvolto nel commercio di droga. Lupo disse che quando si allontanò il tunisino era ancora vivo. Raoui di non ricordare nulla perché è ubriaco, la Kib negò tutto. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino ha partecipato al convegno antimafia organizzato da Libera, l'associazione che lotta contro le mafie che si è svolto presso la sede della circoscrizione europista di Alessandria, il resoconto di Franco Capone. Il processo a carico dei 17 protagonisti accusati di far parte di una organizzazione legata alla mafia calabrese, l'Andrangheta, che secondo gli inquirenti si era formata, stava per formarsi nel Basso Piemonte e che agiva in Nord Italia, si era concluso a ottobre dello scorso anno con la soluzione di tutti i 17 presunti imputati. Alla sentenza di primo grado di quel processo chiamato Arba Chiara si è opposta la pubblica accusa ed è stata depositata proprio in questi giorni la motivazione di quella sentenza. Su questo argomento ad Alessandria, presso la taglieria del pelo, la circoscrizione europista, si è tenuto un convegno organizzato da Libera, l'associazione che lotta contro le mafie. Libera è nata nel 1995 come intento a quello di sollecitare la società civile ad opporsi alle mafie oltre che a promuovere legalità e giustizia. Al convegno ha preso parte il GIP del Tribunale di Torino, Giuseppe Salerno, il capo della squadra mobile della questore di Alessandria, Domenico Lopane. Nel suo intervento il giudice ha sottolineato come l'andrangheta è un'associazione mafiosa che trae il suo enorme guadagno soprattutto dal mercato della droga e che per rimettere i soldi guadagnati, naturalmente, illecitamente, nel circuito del mercato normale tende a creare delle piccole aziende che agiscono soprattutto nel mondo dell'edilizia e del movimento terra. Una volta che le piccole aziende si affermano sul mercato si passa ad un livello più alto cercando di ottenere appalti pubblici con la sicurezza di avere un grande vantaggio sugli aziende che agiscono in maniera legale. Possono infatti ribassare i prezzi al punto da battere qualunque concorrente. La specialità dell'andrangheta è costituita soprattutto dai subappalti. Molte volte l'andrangheta, la mafia calabrese, per il raggiungimento del proprio scopo, cioè quello di ottenere lavori pubblici, si avvicina alla politica offrendo voti in cambio di incarichi redditizi. Inoltre si estende ad altri settori come il gioco d'azzardo nei bar. Animato ed interessante il dibattito che ne è seguito. All'inizio del servizio avete visto delle immagini che non sarebbero dovute essere montate in quanto i personaggi che avete visto sono poi stati tutti assolti. Le continue proteste dei lavoratori del mondo che ruota intorno al comune di Alessandria e delle sue aziende partecipate hanno provocato una vera e propria divisione nella giunta del sindaco Rita Rossa. A confermare sono arrivate le dimissioni dell'assessore Sebastiano Puleio più noto come Nuccio Puleio. Queste dimissioni dimostrano che sta prevalendo la linea amministrativa più rigida che prenderebbe in considerazione provvedimenti anche drastici per contenere le spese comunali al punto di arrivare a considerare inevitabili alcuni licenziamenti. L'assessore Puleio sembra più in linea con i sindacati dei lavoratori che vorrebbe salvaguardare tutti i posti di lavoro. La situazione ASPAL soprattutto dimostra come sia difficile far quadrare l'esigenza di contenere la spesa del comune e salvaguardare i posti di lavoro oltre che garantire i servizi al cittadino. Le deleghe affidate a Puleio erano sistema educativo, comunità e benessere dei bambini. E nell'ultima settimana che porta alle votazioni per eleggere i componenti di Camera e Senato continuano le presentazioni dei candidati da parte dei partiti politici. In questo servizio il PDL, la lista civica con Monti per l'Italia e la destra storace. De Demici. Il PDL della provincia di Alessandria si è riunito all'ex taglieria del pelo per presentare e sostenere i candidati dell'Alessandrino alla Camera, Danilo Rapetti e Antonio Tortorici. L'ex sindaco di Acquiterme, Danilo Rapetti, è candidato alla Camera per il Popolo della Libertà, Berlusconi presidente, e si trova in lista nella posizione numero 6 nell'area del Piemonte 2. Antonino Tortorici è al numero 18. Per il Senato, candidati del PDL per la provincia di Alessandria nella posizione numero 13 Emanuele Olandi e nella numero 18 Pietro Calonico. Alla serata di presentazione ufficiale erano presenti molti dei personaggi di primo piano del PDL e non solo nell'area della provincia di Alessandria del Piemonte. Era infatti presente anche il coordinatore nazionale del Popolo della Libertà, l'onorevole Enrico Pianetta. Anche per la destra storace è arrivato il presidente nazionale del partito Teodoro Buontempo. Sono stati presentati i candidati della zona di Alessandria alla Camera e al Senato. Nella lista alla destra storace per la Camera area Piemonte 2 i candidati locali sono Giuseppe Lonero, posizione numero 3, Sandra Lazzarone al numero 16, Ivana Annice Repetti al numero 18, Lucia Toninello numero 20 e Maurizio Zingales al numero 22. Per il Senato la destra storace presenta come candidati locali Aldo Rovito, posizione numero 3, e Lorenzo Lorefice numero 12 e poi ancora Marinella Vallini il numero 20. Altro incontro con presentazione del programma per la lista civica con Monti per l'Italia. L'onorevole Renato Balduzzi ha tenuto una relazione di battito avente per titolo una fase nuova per Alessandria. L'onorevole Renato Balduzzi è capolista alla Camera nel collegio Piemonte 2 per la lista civica con Monti per l'Italia. E in lieve flessione la popolazione di Novi Ligure che secondo gli ultimi dati forniti dall'anagrafe in seguito al quindicesimo censimento generale della popolazione risente della cosiddetta cancellazione di una serie di persone. Ce ne parla Enrico Maria. A Novi Ligure la popolazione è in lieve calo, è quanto rilevano i dati dell'ultimo censimento. Sono 28.648 infatti i residenti in città registrati al 31 dicembre 2012, vale a dire 90 in meno rispetto allo stesso periodo del 2011. Questi i primi dati ufficiali elaborati dall'Ufficio Anagrafe del Comune, che risentono della revisione effettuata dopo il quindicesimo censimento generale della popolazione svoltosi nel 2011. Diverse cancellazioni infatti riguardano persone che per vari motivi non hanno partecipato alla rilevazione statistica. Proprio le procedure dovute al censimento e l'adeguamento ai nuovi modelli predisposti dall'Istat, fanno sapere dal Comune, stanno comportando tempi più lunghi rispetto al solito nell'elaborazione dei dati. In base alla circolare dell'Istituto Nazionale di Statistica, i Comuni hanno tempo fino al 30 marzo prossimo per inviare le comunicazioni. Prossimamente quindi saranno disponibili dati più completi riferiti al movimento migratorio della popolazione novese. Intanto da Palazzo Pallavicini fanno sapere che il totale dei residenti è composto da 15.012 femmine e 13.636 maschi. Seguendo un andamento diffuso a livello nazionale, la popolazione straniera aumenta in misura minore rispetto agli anni precedenti e nel 2012 si attesta a 3.581 unità, 114 in più rispetto al 2011. Ora la percentuale rispetto alla popolazione totale è del 12,5%, mentre nel 2011 era del 12%. Tra le curiosità è interessante il numero di ultracentenari registrati all'anagrafe cittadina. Alla fine dell'anno scorso se ne contano 11, di questi ben 10 sono donne e solo uno di sesso maschile. In tutta Italia sono poco più di 15.000 le persone ultracentenarie, di cui 12.000 sono donne. Triste primato per le tasche degli italiani, il nostro paese tra quelli in Europa che ha i prezzi più alti per le forniture di gas e di energia. Alessandra Dallacan. L'Italia ha i primi posti per le forniture di gas ed energia. Purtroppo il primato deve essere inteso in termini negativi, nel senso che i prezzi del bel paese sono tra quelli più elevati in Europa. I numeri degli esperti parlano chiaro. Una famiglia media italiana spende circa 1.820 euro all'anno per le utenze di gas e luce, con costi unitari del 20% superiori rispetto a quelli in vigore in Spagna, Germania, Francia e Gran Bretagna. Il quadro è tutt'altro che felice e vede gli italiani appunto spendere di più anche in questo settore. Ma vediamo i conti nel dettaglio. Il gas. Per quanto riguarda i consumi di gas, una famiglia media italiana spende circa 1.300 euro all'anno, considerando un consumo annuo medio di 1.400 metri cubi. Potrebbe risparmiare ben 260 euro l'anno se avesse le tariffe unitarie in vigore nei principali paesi europei. La luce, invece. Una famiglia tipo paga in Italia circa 520 euro all'anno per un consumo medio di circa 2.700 kilowatt. Potrebbe risparmiare 73 euro ogni anno se potesse ancora una volta contare sulle tariffe unitarie in vigore negli altri paesi considerati. Ma perché questa differenza? La spesa unitaria varia perché da noi i prezzi della materia prima gas e della quota energia della luce sono tassati maggiormente rispetto all'estero. Da qui i rincari che si ripercuotono sulle bollette. Nel dettaglio il prezzo della materia prima gas in Italia è in linea con quello pagato dagli altri paesi europei, mentre è molto forte la differenza di tasse ed imposte sulla bolletta. E ancora, se sull'energia elettrica il prezzo italiano della quota energia è leggermente più alto rispetto alla media di altri paesi, è notevole il diverso peso delle tasse e delle imposte applicate alle bollette italiane. Viva l'Italia! Il mondo del web e le sue insidie finiscono in un cortometraggio realizzato da un gruppo di studenti di Ovada. Bruno Mattana ha intervistato il giovanissimo regista. Presso l'istituto scolastico Santa Caterina delle Madripie ad Ovada un singolare evento. Un gruppo di studenti liceali hanno realizzato, prendendo come setto Ovada, un cortometraggio dal titolo Chat Room. Si tratta di un thriller che racconta come la rete può diventare una trappola mortale. La presentazione in anteprima presso le Madripie e poi in forma ufficiale il 2 marzo prossimo al Cinema Teatro Splendor. Di questo film regista, sceneggiatore, direttore di produzione, il giovane Alessandro Pestarino. Innanzitutto, com'è nata questa idea? È nata appunto da un racconto che ha scritto Alessio Piana. Io ho lessi quel racconto circa un anno fa, comunque ne rimasi colpito dalla storia e decidi di trasformarlo in un cortometraggio, cambiando alcuni aspetti. È un thriller pessimista, diciamo, che finisce male. Anche nel racconto originario finiva male, finisce male anche nella sceneggiatura, ma in una maniera diversa, finisce male in maniera saracastica. C'è un umorismo nero alla fine, diciamo, c'è questo tocco di umorismo nero. Pensi che andrà avanti questa esperienza? Sì, io spero che vada avanti, almeno, anzi sono già in produzione di un altro film che non è quel sequel di questo qui, è un altro progetto, perché dato che comunque spero di farlo come lavoro, quindi comunque mi impegno attivamente, giornalmente, anche scrivendo sceneggiature per altri progetti che poi forse riuscivo a fare un giorno. I protagonisti chi sono? I protagonisti sono Cecilia Arata, che interpreta il ruolo di Eleanor Fab, una ragazza francese venuta a studiare qua in Italia, e Nicole Masieri, che interpreta Julien Barbier, anch'essa una ragazza francese venuta qui per gli stessi motivi, ma esse hanno un vissuto totalmente differente l'uno dall'altro. Cecilia Arata è la protagonista principale del film. Ma era una prima esperienza o ci sono ambizioni diverse? Non lo so, perché io faccio teatro dalla seconda elementare, però come esperienza... Del mestiere, insomma. Più o meno. La prima esperienza cinematografica, quindi è stato un po' diverso, però mi è piaciuto molto, spero, di ripetere l'esperienza di nuovo. Qui con noi c'è Nicole Masieri, che è l'altra ragazza, che è l'altra interprete di questo film. Come è andata questa esperienza? L'esperienza è stata bellissima, è stata piena di emozioni e devo dire che sono stati tre giorni molto importanti e di grandissimo lavoro. La rifarei assolutamente, anche perché il regista è bravissimo e noi attori ci siamo impegnati davvero tanto a fare ciò che lui ci ha chiesto. Grazie mille. Domenica sale in vetta alla classifica. Terza sconfitta consecutiva invece per la Z-Metal Alessandria nel campionato di divisione nazionale C. Tutto questo nel servizio curato da Gianluca Ardiani, poi le previsioni del tempo e la rubrica delle notizie utili. Grazie come sempre per averci seguito. Arrivederci. La Junior Casale torna alla vittoria dopo il passo falso contro Capodorlando e lo fa grazie ad una prestazione convincente che permette ai Monferrini di sconfiggere la centrale del Latte Brescia. 91-87 il punteggio in una partita giocata punto a punto fin dalla palla 2. A rompere gli equilibri ci ha pensato un Casper Weir autore di una prova semplicemente incontenibile. Per lui parla il tabellino finale. 38 punti con 8 su 8 ai tiri liberi, 6 rimbalzi e 8 assist in una sola parola dominatore. Il player americano da 6 mesi in Europa dopo l'esperienza al college di Long Beach State sembra aver trovato la sua dimensione ideale nel Monferrato ed è sempre più leader del team guidato da coach Griccioli. In ripresa anche l'altro americano di Casale, Rodney Green, autore di 20 punti, è apparso in grande ripresa sotto l'aspetto fisico. Gara di grande solidità anche da parte di Martinoni, la cui presenza si sente in ogni zona del campo, un giocatore che sta dimostrando grande continuità in questo avvio di 2013. Grazie alla bella prova contro Brescia, la Junior rimane al secondo posto in classifica in Lega 2, a due lunghezze della capolista Pistoia. I Monferini hanno anche il miglior attacco del campionato, con una media di 81,2 punti a partita. Soddisfatto coach Griccioli per una vittoria ottenuta contro un avversario insidioso e dalle grandi potenzialità come Brescia, una prestazione dalla quale si possono otterrare molti spunti positivi per il futuro. In divisione nazionale B guarda tutti dall'alto l'Orsi d'Ertona, che raggiunge la vetta della classifica dopo la schiacciante vittoria ottenuta contro il malcapitato Riva dei Garda, uscito dal Palacamagna con le ossa rotte dopo l'80-49 finale a favore dei Leoncelli. Un risultato che va oltre ogni più rosa a previsione di inizio campionato e che conferma i tortonesi come autentica sorpresa del girone. Arrivati a questo punto non è più proibito sognare. In divisione nazionale C sconfitta di misura per la Zimet all'Alessandria, 81-77 contro Domodossola, in un match a lungo comandato dagli alessandrini, che sono però mancati nei momenti decisivi della gara. Terta sconfitta consecutiva per il team allenato da coach Bandoni, che deve invertire la rotta già a partire dal prossimo turno contro Oleggio per continuare a coltivare le speranze di agganciare la zona playoff.